Ciao a tutti e benvenuti. All'interno di questo video andremo a trattare di che cosa sono e di come si originano i tumori. Il ciclo cellulare è un processo complesso e può accadere che talvolta non funzioni regolarmente oppure che alcune cellule riescono a sottrarsi alla sua regolazione. Ne consegue allora un frenetico sul seguirsi di divisioni senza scopo che si svolgono in modo irregolare. Nasce quindi il tumore, dal latino tumor ovvero massa, per indicare l'accrescimento dovuto alla proliferazione cellulare. Contrariamente a quanto molti ritengono i tumori sono una malattia che interessa praticamente qualunque organismo pluricellulare, sia animale che vegetale. Inoltre hanno un'origine antichissima. Si può ritenere con sufficiente certezza che siano comparsi con i primi organismi viventi. Ne sono state addirittura trovate tracce nelle ossa fossili dei dinosauri, negli scheletri dei primi uomini, nelle mummie egiziane e nei resti trovati nelle tombe etrusche. Un tumore può svilupparsi da qualsiasi cellula dell'organismo, appartenente a qualunque tipo di tessuto, di qualunque organo. E poiché ogni forma di tumore possiede delle sue caratteristiche proprie, si parla più propriamente di un insieme di malattie. Sostanzialmente un tumore nasce quando una cellula inizia a dividersi al di fuori di qualunque controllo. È la cosiddetta trasformazione tumorale. Una cellula trasformata si riproduce originando altre cellule con le stesse caratteristiche e così, se lasciato a se stesso, il tumore tende a crescere sempre di più. Dapprima invade progressivamente il tessuto in cui si è formato, poi l'organo che lo ospita e infine l'intero organismo, provocando danni sempre più gravi e conducendo alla morte. In base al modo di crescita si distinguono due diverse forme di tumore, i tumori benigni e i tumori maligni. Se le cellule tumorali rimangono confinate nel tessuto di origine senza invadere quelli circostanti e non tendono quindi a riprodursi in altri organi, si parla di tumori benigni. Questo tipo di tumori non si estendono quindi ad altre parti del corpo e non invadono altri tessuti, anche se possono ugualmente costituire un pericolo per la vita dell'individuo. I tumori benigni, tuttavia, essendo molto circoscritti, sono abbastanza facili da eliminare. Se invece le cellule tumorali invadono i tessuti circostanti e, caso ancora più grave, tendono a propagarsi ad altri organi, si parla di tumori maligni che, proprio a causa della loro capacità di infiltrazione e di propagazione, sono estremamente difficili da eliminare. I tumori maligni hanno due caratteristiche, l'invasività, cioè la capacità di infiltrarsi tra le cellule sane del tessuto, e la metastatizzazione, cioè la possibilità di propagarsi a distanza. Le metastasi sono infatti le propagazioni del tumore. Queste caratteristiche sono la conseguenza di una ridotta adesività delle cellule tumorali, sia tra loro stesse che alle altre cellule del tessuto. Le cellule tumorali poco coese invadono quindi l'intero tessuto, possono entrare in vasi sanguigni o linfatici e, trasportate dalla corrente circolatoria, possono arrivare a colonizzare altri organi. La presenza di infiltrazioni che si diramano da una massa centrale è il motivo per cui i tumori maligni sono detti cancri, dal latino cancer, ovvero granchio, in quanto le metastasi fanno ricordare questo animale. Ma qual è l'origine dei tumori? Il processo di formazione di un tumore, detto cancerogenesi, non è poi così tanto misterioso, anche se rimangono da chiarire molti dettagli. Il fattore che porta alla trasformazione di una cellula è ormai abbastanza ben conosciuto. Si tratta quasi sempre di un'alterazione dei geni che controllano il ciclo cellulare o che producono fattori di crescita. Questi geni possono subire una modificazione e trasformarsi in oncogeni, ovvero dei geni capaci di provocare il tumore. Dal greco infatti onkos significa massa. L'organismo cerca in qualche modo di contrastare la comparsa degli oncogeni ed è per questo che esistono altri geni che sono detti oncosoppressori. Questi hanno il compito di rimediare al danno, cercando di impedire la formazione del tumore vero e proprio. Sotto questo aspetto è allora interessante notare come un tumore che arriva a dar segno di sé rappresenta in definitiva una battaglia che è già stata perduta. In ogni organismo si originano continuamente delle cellule tumorali che però nella stragrande maggioranza dei casi vengono distrutte. Stabilire l'esatta modificazione che è avvenuta e quali meccanismi abbia sconvolto è abbastanza difficile perché bisognerebbe conoscere meglio i sistemi di regolazione del ciclo cellulare. Un gene che sembra molto importante è quello che esprime la proteina P53, la cui funzione è quella di controllare l'integrità del DNA e, se risulta danneggiato, bloccare il ciclo cellulare. I livelli di P53 aumentano nella cellula in proporzione all'entità del danno e ciò dà tempo per riparare il DNA. Se però il danno è particolarmente grave e il DNA non può essere riparato, si avvia il meccanismo dell'apoptosi, di cui abbiamo parlato in un video precedente. Modificazioni nella struttura di P53 sono tra le più frequenti cause che possono consentire lo sviluppo di un tumore. Nelle cellule tumorali la produzione di questa proteina è bloccata ed è per questo che possono moltiplicarsi senza limiti. Recenti studi hanno dimostrato che, nei topi, la riattivazione di P53 può far regredire molti tipi di tumore. Le cause che conducono alla trasformazione di un gene normale in un oncogene sono le mutazioni. Occorrono però più mutazioni dello stesso gene perché questo diventi un oncogene. Si pensa da 3 a 6 mutazioni e questo fa capire come mai i tumori siano delle malattie che insorgono prevalentemente in età avanzata, poiché le mutazioni si accumulano progressivamente. Le mutazioni possono essere naturali o artificiali. Le prime sono dovute ad alterazioni che il DNA subisce nel corso della duplicazione. Il tasso di errori è di circa 1 su 1 miliardo di coppie di nucleotidi, ma il DNA umano ne possiede più di 6 miliardi. Quindi, dopo ogni duplicazione cellulare, si hanno in media 6-7 mutazioni. Per fortuna queste non avvengono sullo stesso gene. Abbiamo detto quindi che le mutazioni naturali sono dovute ad alterazioni che il DNA subisce nel corso della duplicazione. Quindi, più una cellula si riproduce, più è facile che accumuli delle alterazioni nei propri geni. Esistono poi alcune condizioni che sembrano favorire le mutazioni. La loro identificazione ebbe inizio a partire dalla metà dell'Ottocento, quando la comparsa dei tumori fu messa in relazione con alcuni agenti chimici e fisici. Furono riconosciute come cancerogene molte sostanze usate nella fabbricazione di vernici, che causavano il cancro nei lavoratori addetti alla loro produzione. Il catrame, inoltre, contenuto nella fuligine, che causava il cancro negli spazzacamini, le radiazioni ionizzanti che producevano dei tumori nei soggetti troppo a lungo o troppo fortemente irradiati, e numerose altre. Da allora sono state identificate più di un centinaio di sostanze e di condizioni favorenti il cancro, dette nel loro complesso cancerogeni. Esse includono ormoni, radiazioni, parassiti, virus, ma soprattutto delle sostanze chimiche. Per molti di essi non si conoscono ancora con esattezza i meccanismi attraverso i quali questi vanno ad agire. Studi recenti hanno però dimostrato che non basta un solo contatto occasionale con l'agente cancerogeno per avere la comparsa di un tumore. Sono importanti però sia la dose che soprattutto la durata del contatto. Si è visto però che i cancerogeni si potenziano a vicenda, sommando i propri effetti anche a distanza di anni. I vari cancerogeni si distinguono in fisici, come per esempio le radiazioni ionizzanti e i raggi UV del sole, numerose sostanze chimiche, tra le quali l'amianto, capace di provocare tumori ai polmoni, o il benzene, un comune solvente ritenuto responsabile di molte forme di leucemia, i gas di scarico delle automobili, il catrame, diverse sostanze usate come additivi per gli alimenti per lo più coloranti e conservanti e in relazione alla loro capacità di provocare o meno il tumore, il Centro Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha proposto una classificazione adottata anche dall'Unione Europea in cinque gruppi. Gruppo 1 sicuramente cancerogeno, gruppo 2A probabilmente cancerogeno, gruppo 2B possibile cancerogeno, gruppo 3 probabilmente non cancerogeno e gruppo 4 non cancerogeno. E al momento in quest'ultima categoria c'è una sola sostanza, il caprolattame, un precursore del nylon. I cancerogeni possono essere anche fattori biologici, infatti alcuni virus sono stati individuati come responsabili di alcune forme di tumore, per esempio il papillomavirus, responsabile della comparsa di tumori all'utero. Ma come si combattono i tumori? Il cancro è, nei paesi occidentali, la seconda causa di morte dopo le malattie cardiovascolari. E nonostante le conoscenze sui tumori siano oggi notevoli, non ci sono purtroppo delle cure universalmente efficaci. Ma questo non significa che, nei confronti dei tumori, noi non possiamo far niente. Oggi il tumore non è più quel male incurabile che era qualche decina d'anni orsono. La probabilità di una completa guarigione si aggira mediamente intorno al 50% e per il momento le cose stanno continuamente migliorando. Da un punto di vista clinico è possibile affrontare i tumori con tre diversi tipi di intervento. La prevenzione, cioè fare in modo che una cellula normale non divenga tumorale. La diagnosi precoce, individuando quindi il tumore prima che esso abbia dato evidenti segni di sé. e la terapia, ovvero eliminare le cellule di un tumore ormai evidente. La prevenzione è ormai la forma di intervento di gran lunga preferibile. È proprio grazie ad efficaci sistemi di prevenzione che oggi molte forme di tumore sono sensibilmente in calo. Purtroppo questo non sempre è sufficiente ad impedire l'insorgenza di un tumore. In questo caso allora è necessario ricorrere quanto prima alla diagnosi precoce, poiché la cura di un tumore è tanto più efficace quanto più tempestivamente attuata. Oggi il cancro viene ancora considerato un male incurabile, che porta a una morte sicura e di conseguenza ci si sottrae alle indagini necessarie per identificarlo precocemente. Invece molte delle persone che muoiono per tumore avrebbero potuto essere salvate con la prevenzione o con la diagnosi precoce, quando il male era ancora allo stadio iniziale. La prevenzione si ottiene quindi tenendosi lontani dai possibili cancerogeni, anche se spesso è difficile poiché molti fanno talmente parte della vita di ognuno da non poter essere eliminati del tutto. Oltre ad evitare per quanto possibile l'inquinamento urbano e industriale, esistono alcune abitudini e stili di vita che vale la pena di adottare perché è in grado di prevenire efficacemente l'insorgenza di tumori. E questi possono essere il vizio del fumo, l'abuso di alcol, le cattive abitudini alimentari e, l'ossessione della bronzatura. Il fumo è il maggior responsabile dei tumori a carico del sistema respiratorio. Esistono numerosissimi studi che dimostrano inequivocabilmente la netta differenza tra fumatori e non fumatori rispetto alle possibilità di ammalarsi di tumori ai polmoni e alle vie respiratorie, ma anche alle vie digerenti e urinarie. Chi fuma 20 sigarette al giorno corre un rischio di contrarre un tumore 10 volte superiore rispetto a chi non fuma. Ormai non ci sono più dubbi sulla pericolosità del fumo, ma nonostante ciò il vizio di fumare, visto erroneamente come simbolo di libertà e di sicurezza, si è sempre più esteso coinvolgendo anche i giovanissimi. Oggi infatti circa la metà dei ragazzi al di sotto dei 20 anni è derita al fumo. La cancerogenicità del fumo non dipende soltanto dal numero di sigarette fumate, ma anche e soprattutto dall'età in cui si è iniziato a fumare. Coloro che hanno iniziato prima dei 25 anni vedono il rischio moltiplicato per 3, mentre chi è iniziato prima dei 20 anni lo vede moltiplicato addirittura per 5. Chi però decide di smettere di fumare diminuisce la possibilità di contrarre un tumore proporzionalmente alla durata del periodo di tempo trascorso senza il fumo. L'uso di cannelli, filtri o sigarette dette leggere, cioè con meno nicotina, non rappresentano una protezione, perché non è la nicotina la sostanza cancerogena presente nel fumo, ma sono quelle, cioè più di 40, che si sviluppano dalla combustione del tabacco. Il fumo, poi, è pericoloso anche per coloro che non fumano. È il cosiddetto fumo passivo, ovvero l'inalazione dei prodotti di combustione del tabacco da parte di chi respira il fumo emesso dai fumatori. In ambienti chiusi e saturi di fumo, le sostanze inalate passivamente dal non fumatore possono raggiungere nel sangue delle concentrazioni del tutto sovrapponibili a quelle presenti nei fumatori. Per quanto strano possa sembrare, anche le abitudini alimentari hanno un'influenza notevole sul rischio di ammalarsi di tumore, non solo per quanto riguarda quelli a carico dell'apparato digerente. Secondo alcuni autori, l'alimentazione ha un ruolo variabile fra il 30 e il 60% nell'insorgenza di tutti i tipi di tumori. Nelle abitudini alimentari, tre elementi vengono considerati come veri e propri fattori di rischio. Il sovrappeso, l'eccessivo consumo di carne e grassi animali e il ridotto consumo di frutta e verdura. Le migliori raccomandazioni sono quelle di non aumentare eccessivamente di peso, di moderare quindi il consumo di carne e di mangiare molta frutta e verdura. L'importanza di frutta e verdura è notevole perché in essa sono contenute moltissime sostanze che bloccano l'azione cancerogena. Per quanto riguarda i tumori allo stomaco, poi occorre fare attenzione anche al sale. Non perché esso sia un cancerogeno, ma perché il suo consumo eccessivo provoca delle infiammazioni della parete gastrica, che favoriscono l'instaurarsi di fenomeni tumorali. Ci vuole quindi prudenza con i salumi, gli insaccati, le olive, le noccioline, le patatine fritte e i salatini in generale. Anche la temperatura dei cibi sembra avere la sua importanza. Consumare alimenti troppo caldi espone ad un maggior rischio di tumori all'esofago. Sull'alcol mi soffermerò poco, perché in particolare su questa sostanza faremo un video prossimamente. In ogni caso l'assunzione di alcol è significativamente correlata ad un'alta incidenza di tumori alla bocca, all'esofago, al fegato e alla mammella. Il rischio diviene significativo a partire dai 30 grammi di alcol al giorno, che corrispondono a circa 2 bicchieri di vino o 2 lattine di birra. Ma questo limite vale soltanto per chi non fuma, perché alcol e tabacco si potenziano a vicenda. In ultima analisi parliamo della bronzatura. I raggi solari non sono del tutto benefici per la pelle, in particolar modo per alcuni tipi di pelle. Si sa che favoriscono il precoce invecchiamento cutaneo, la perdita dell'elasticità e anche la formazione di tumori. Ciò si verifica in maggiore misura quando si aumenta la durata delle esposizioni, dal momento che il danno è cumulativo ed è irreversibile. I responsabili sono i raggi ultravioletti, che possiamo suddividere in UVA, UVB e UVC. Gli UVB non superano l'epidermide, gli UVA raggiungono il derma, mentre gli UVC sarebbero estremamente dannosi, ma per fortuna sono filtrati in modo pressoché completo dalla fascia di ozono dell'atmosfera. Quindi i più pericolosi per la nostra pelle sono gli UVA, che provocano dei danni al DNA. Solo dopo un'eccessiva esposizione solare possono comparire eritemi o scottature dovuti agli UVB, di intensità variabile in rapporto al tipo di pelle e alla durata dell'esposizione stessa. Per proteggersi dagli UVA il nostro organismo produce la melanina, una sostanza di colore scuro che determina la pigmentazione della pelle, cioè l'abbronzatura. Un ulteriore meccanismo di difesa è l'ispessimento dello strato corneo della cute. La pelle abbronzata infatti è più ruvida e più spessa del normale. Poiché trascorre un certo tempo tra i danni provocati al DNA e l'insorgere del tumore, gli effetti dannosi si vedono in tempi lunghi. Per proteggere la pelle sono stati messi a punto vari prodotti che fanno da schermo nei confronti di UVA e UVB. Si tratta di creme il cui fattore di protezione riportato sull'etichetta indica per quante volte applicando quel prodotto sulla pelle è possibile moltiplicare il proprio tempo di esposizione al sole senza danni eccessivi. Infine è bene ricordare che non possiamo affidarci completamente ai filtri anti UV che per quanto efficaci non garantiscono una protezione totale ed è quindi necessario limitare l'esposizione al sole nelle ore di maggiore insolazione. Per il momento si conclude la prima parte di questo video riguardo i tumori, della diagnosi precoce e di qualche cenno sulle terapie tratteremo in un prossimo video. Per il momento è quindi tutto. Grazie per l'attenzione e a presto!